Un po' negativo al massimo, non si cammina nessuna zona della città. Purtroppo è un'unica strada e quindi convergono tutte le scuole in questa strada. Il traffico ci sta salendo. Non lave che tanto è buono, perché da Cicalese si mangia un giro da Cicalese a finire qua. Cioè è peggio diciamo? Per me sì. Grazie a tutti.